Bene, rieccoci in studio per parlare adesso di una disciplina molto particolare, la disciplina del salvamento. A Ischia stiamo imparando a conoscerla piano piano proprio grazie a tutto quello che fa questa società della quale vi parleremo questa sera, sia in Italia sia all'estero. Le immagini che infatti vedete adesso sullo schermo sono relative al Catalunia Rescue Festival di Barcellona che solo due settimane fa è andato in scena, si direbbe a teatro. Gli atleti ischitani che hanno partecipato sono tutti atleti dell'Auras Ischia. Prego la regia di tornare in studio in modo da inquadrare e dare un volto a questi atleti. Al centro vediamo Ottorino Mattere, il delegato dello sport del comune di Ischia, presidente del consiglio comunale. Grazie Ottorino di essere con noi in questa veste da sportivo non esattamente attinente perché tu sei più vicino alla palla a volo come sport tuo personale. Come mai questa vicinanza con l'Auras? Ma in realtà come il mio pensiero da sportivo oltre che da persona che fa politica in uno a tutti i colleghi dell'amministrazione è quello che in un posto come Ischia, in un posto di mare, in un posto dove l'acqua la fa da padrone, essendo un'isola la nostra realtà, non poteva non mancare, o meglio non potevamo non essere presenti o essere vicini a quelle attività che si svolgono prevalentemente in acqua. Il salvamento logicamente è quella che è anche abbinata con gli stabilimenti balneari, con il turismo, con le attività ricettive, le attività che si svolgono presso le piscine, non lo so, delle strutture turistiche ricettive. Quindi è di fondamentale importanza, oltre che storicamente noi non siamo così propensi con queste attività svolte sportivamente parlando sull'area Nile, invece ci sono associazioni la cui formazione va implementata soprattutto attraverso l'esercizio di attività sulla spiaggia, sul mare, perché il turista che viene, inutile dirti che è anche affascinato, comunque anche interessato a fare la vacanza, ma forse anche a fare attività sportive. Dunque se questo lo si fa in piscina d'inverno e lo si fa d'estate sulla spiaggia, dove loro lo svolgono o altrove, lungo i nostri litorali, secondo me c'è una vivacità, c'è una forma di attrazione che probabilmente è un'offerta anche più bella da dare a tutti quanti. E se questa poi crea anche una sorta di connubio con le realtà che vengono da fuori, con gli atleti locali, si crea quello scambio di informazioni, di esperienze, di cose che possono portare certamente a una crescita anche del nostro tessuto sportivo nell'ambito di queste attività. Un'offerta dunque sportiva che si amplia nel comune di Ischia, grazie a società come questa, che vanno ad occuparsi di una disciplina come quella del nuoto, con una divisione, una disciplina come quella del nuoto vissuta in maniera particolare, Carlo Picconi, perché non si tratta del semplice nuoto da piscina o del nuoto in acque libere, ma di che cosa stiamo parlando? Spieghiamo cos'è il salvamento, come nasce? È l'unica disciplina che ha un risultato sociale molto forte, perché dalle esperienze natatorie si applicano tutte quelle conoscenze per poter salvare una persona in mare, in difficoltà, diciamo, perché può essere nei fiumi, nei laghi, a mare, nei torrenti. Chiaramente tutto questo abbraccia, così come tutte le federazioni del mondo, una connotazione sportiva agonistica di ampio respiro, quindi i campionati mondiali, europei, si sta pensando anche di coinvolgere come attività olimpica, però essendo una multidisciplinare, perché ci sono tante gare, è difficile andare a individuare la gara unica, ma sarebbe molto complesso. Abbiamo le gare, come diceva l'amico Ottorino, gare in piscina e gare a mare. Quelle gare che facciamo noi sono di carattere oceanico, cioè vengono svolte principalmente in mari, abbiamo visto qua, non è tanto agitato, però la maggior parte delle gare vengono fatte in acque molto agitate. Proprio per dimostrare che con la propria forza, solo con la persona e nessun mezzo, che si fa anche solo con il nuoto, si riescono a salvare le persone. Queste discipline sono molto importanti in Australia, soprattutto ci sono squali, infatti ci sono stati pure diversi film che hanno riportato in modo abbastanza romanzato questa disciplina. Noi la svolgiamo a livello agonistico e questa è una tappa di un progetto che parte nel 2004. Questo è il quinto appuntamento internazionale. Primo nel 2004 si è svolto in Italia, dopodiché siamo andati in Egitto nel 2010, in Spagna nel 2013, Montpellier, Francia nel 2014 e di nuovo nel 2019 quest'anno a Barcellona. Quindi diciamo che l'isola d'Ischia attraverso questo circuito ha acquisito un'ulteriore diffusione a livello internazionale. Ma infatti uno di questi, uno, perché poi ci sono tanti aspetti di questo nostro girovagare, è quello di portare anche alla nostra isola come immagine. Cioè sentirsi chiamare in una piscina da 50 metri quella di Montpellier che è fantastica, qualcosa che ti farà brividire. In inglese il nome di un ragazzo isolano, dicendo Ischia, come è successo per Filippo Perrella che al microfono l'hanno chiamato, questa, ma al di là della pubblicità intrinseca che è evidente, è un'emozione che è difficile da rappresentare anche con gli schermi, con le immagini, perché è una cosa che provi tu, questa è là in quel momento. I ragazzi credo, questo è un altro aspetto, cioè i nostri ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi con delle realtà completamente diverse, hanno un modo diverso di affrontare la competizione, sia in Egitto dove abbiamo visto delle cose che ci sembravano leggermente borderline e stavamo alla primavera araba, il mese prima, quindi entravamo in albergo dove c'erano i metal detector, tanto per dire queste esperienze che ha vissuto anche Filippo, o ragazzi che per la prima volta vanno in aereo, cioè sono una serie di situazioni che l'associazione di questo, sono orgoglioso ma perché? Abbiamo iniziato nell'89, sembrava utopia abbracciare queste realtà così grandi, così importanti, poi alla fine ti rendi conto che piano piano, piano piano, niente impossibile. Vabbè perché diciamo lo vivevate con lo spirito del pioniere, di chi arriva in un posto dove non è mai stato nessuno. Perfetto, quest'anno una cosa bella, che noi siamo andati a Barcellona, abbiamo un attimo parlato, ho parlato un po' con i colleghi continentali, sono arrivate tre squadre italiane con noi, poi c'erano i tedeschi, c'erano i francesi, c'era una bellissima manifestazione, tutto questo chiaramente è importante anche perché io vedo che dietro di me non c'è il nulla, cioè ci sono dei ragazzi piccoli o grandi e poi c'è una struttura in vicina di dieci struttori, non uno, che collaborano tutto per un unico obiettivo, far sì che i ragazzi vivano in un ambiente sereno per imparare le regole e confrontarsi con un mondo che è completamente diverso, in un ambiente ostico, perché andare in un ambiente con delle onde particolari, dei mari, ma non so se abbiamo delle immagini… Da questo punto di vista diciamo che già il Mediterraneo però è un po' un limite se vogliamo, nel senso che determinati campi di gara come si possono trovare in Australia sono più difficili o mi sbaglio? No, allora è una differenza diciamo di onda, ma andiamo un po' sul tecnico, sull'Oceano abbiamo un'onda lunga importante e grossa, sul Mediterraneo abbiamo un'onda cattiva che frange molto velocemente a ripetizione, quindi sono condizioni diverse. Quale sia la più pericolosa non te lo so dire perché dipende dalla condizione, però è chiaro, quando abbiamo 3-4 onde che ti arrivano con 3-4 metri di altezza fanno male e quindi là ci sono delle tecniche che ti permettono di uscire sia a nuoto, perché l'onda ti butta fuori se riesci a prendere in un certo modo, così con la tavola e così con… faccio un esempio, ci è capitato al Viareggio se non mi sbaglio, le moto d'acqua non uscirono, uscirono un atleta delle Fiamme Oro che ci siamo ritrovati là come tecnico, Nicola Ferro e lui come atleta, sono gli unici due che andarono vicino a una cosa nera che galleggiava perché si gridò all'allarme, allarme, allarme e poi alla fine era una buona nera che stava al di fuori e se la ricordano tutti, ciò significa che sono riusciti a partire in condizioni estreme, dove nemmeno i migliori attrezzi attualmente sul mercato, quindi i pattini non si andavano alla propria perché si capovolgerebbe molto facilmente, la moto d'acqua non è riuscita proprio a partire dalla sabbia, per queste onde che si infrangevano molto velocemente e ripide e loro sono usciti con la tavola, però si sono tornati senza dalle… Con la tavola? Con la tavola, la tavola sarebbe… Sì, forse la vedremo in un altro filmare, uno degli attrezzi perché diciamo si fa anche come si direbbe a corpo libero, però si lavora anche con degli attrezzi, diciamo… Gli attrezzi che però sono spartani, cioè sono il minimo indispensabile per mantenerti a Gala e per mantenere una persona sopra. Un pezzo di carbonio? Anche carbonio, resina normale, il carbonio è una sofisticazione perché anche in questo ci mandiamo, poi dopo lo dirà Filippo, perché la nostra struttura riesce anche a progettarle, le tavole, è riuscita anche a farle costruire in cantiere, c'è un mondo dietro all'Auras e devo dire grazie a tutti i ragazzi e agli istruttori che non sono qui presenti, altrimenti lo studio non riusciva a contenerli. Eh sì, pure perché partiamo dall'attività per i disabili, anche quella è un'altra sfaccettatura, un'altra piccola finestra che per noi è enorme perché là ci assorbe molto, portare questi ragazzi a fare delle gare e a mettere nella condizione di essere uguali a tutti quanti, credo che quello è il top che possiamo… Che poi anche da quel punto di vista diciamo che dovrebbero esserci delle eccellenze se non vado in alto, almeno due mi hai in mente. Sì, sì, è Crescenzo, che sono due ragazzi che si sono distinti anche a livello italiano e hanno partecipato pure all'Ignano Sabbiador, cioè come vedi il nostro mondo è molto variegato, però è chiaro che là se non ci sta Agnese, se non ci sta Lara, se non ci sta Pia, se non ci sta tutti gli istruttori dietro, che ognuno si abbraccia una croce, una sua croce, esatto, e va avanti, Lara, se non avrebbe modo di esistere, non avrebbe… ecco perché dico, sono contento di vedere che dall'89 ad oggi si è costruito qualcosa che esiste, che c'è e poi l'ultima chicca che abbiamo avuto quest'anno, la quale ne ha conoscenza credo adesso solo il Presidente del Consiglio, ma qua a breve le daremo diffusione, siamo centro di formazione per queste discipline e di specializzazione per tutta la Campania, è l'unica realtà del centro-sud. L'unica realtà, perché questo se da un lato inorgoglisce… Dall'altro fa barabirire, fa tremare un po' i posti, ma no, perché sono tappe, tutte cose che poi vengono segnalate da Roma, cioè noi comunque sono un coordinatore regionale della Campania, però… questo perché? Perché negli anni si è svolta un'attività, quindi poi Roma ti chiede di fare delle altre cose. Certo. Una di queste era perché al sud abbiamo poche attrezzature, noi ringraziando te ne abbiamo tante e le produciamo pure, un numero molto limitante, chiaramente, non è che possiamo fare i negozi, però per l'atleta riusciamo a calzare qualche tavola che sia anche particolarmente… Tutti gli attrezzi arrivati a un certo livello devono essere su misura. Quindi tutto questo ha fatto sì che abbiamo costruito insieme al Comitato regionale Campania e al Presidente Trapanese in testa un progetto per formare tutti gli atleti della Campania e chi viene al di voi, sono venuti pure da Somona, sono venuti da Roma, per migliorare la loro tecnica, perché poi sono attrezzi costosi, quindi sarebbe difficile che ogni atleta si possa munire di un attrezzo, una canova costa 2.300-2.400 Euro senza la pagaria, una tavola… Senza la pagaria. Senza la pagaria. Una tavola da competizione andiamo dai 1.000 ai 2.000 Euro, quindi sarebbe improponibile, poi sono attrezzi molto sofisticati e molto delicati. Certo. Quindi è chiaro che ci vuole una struttura che grazie all'amministrazione ci ha dato la possibilità di avere uno spazio dedicato a questo, che anche questo è difficile poi da inquadrare, diciamo come un'isola turistica come la nostra si fa attività sportiva, ma l'attività sportiva sta alla base di tante altre cose. Sta alla base anche della diffusione delle bellezze dell'isola d'Ischia, perché poi c'è da dire, ora sembra uno spot dell'Auras, io ho avuto nel tempo la possibilità anche di partecipare a qualcosa come le gite in canoa al tramonto durante il mese d'agosto sono ideali, a luglio meglio ancora, che si arriva ancora più tardi, nelle quali non solo si fa sport, però c'è la possibilità anche per i turisti di partecipare e di vivere un'esperienza diciamo come quella che partire dalla spiaggia di San Pietro e arrivare al Casta d'Aragonese, a Carta Romana, al tramonto e tornare indietro, penso Presidente che sia uno spot, ora al di là di chi lo fa, è un'esperienza che chi la fa difficilmente la dimentica. Noi forse l'abbiamo vissuto anche insieme una volta, è vero? Forse una delle prime edizioni. Ma anche l'aspetto della vela che curano i ragazzi, i progetti che abbiamo fatto per i disabili, altre attività che noi continuiamo d'estate, adesso stiamo ancora continuando con le attive, chiaro, d'inverno l'isolano è circondato dall'acqua, non è che vede l'acqua come una propensione, è un po' più selettivo l'inverno, esatto, quindi ha più difficoltà a confrontarsi con questo elemento che invece d'inverno la rischia, è fantastico. Però Carlo io ti devo fermare, perché? Perché abbiamo qui con noi anche i protagonisti della spedizione di Barcellona, allora ti chiedo con un focus, non solo di presentare loro, ma partire prima dalla competizione, voi siete arrivati a Barcellona quando? Siamo arrivati giorno 11, magari giorno 12 ottobre, il 13 abbiamo visitato un po' la capitale, poi il 14 alla Ketichella siamo volati perché c'erano già i primi, infatti siamo partiti con un'ora di ritardo e stavano per bloccare la rivolta. Certo che però tu vai in Egitto e c'è la prima era araba, ora a Barcellona le rivolte, c'è una fila di Jessica Fletcher che è pericoloso. Non è pericoloso, si può darsi pure che sia una cosa positiva. Ah certo, questo è fuori rispettivo. Questo dipende dai punti di vista. Certo. I ragazzi nostri, incominciamo dal capitano, perché penso che sia dove eroso, Filippo Perrilla che ormai, tranne quella del 2004, li ha vissuti tutti. Tutti questi eventi internazionali. Certo, spagnolo e Francia. Poi ci sta… Facciamoli vedere anche se riusciamo, non so se… Vincenzo Trani che è la prima esperienza, è riuscito a qualificarsi perché si era qualificato. Questo è Emanuele, questo è Emanuele, Vincenzo è l'altro, Vincenzo è quello tutto a sinistra. C'era una norma del regolamento che ci impediva di portare i ragazzi al di sotto di una certa età. Poi ci hanno dato la deroga solo per i finalisti di un campionato Ilse, che sarebbe quello riconosciuto a livello internazionale. Vincenzo Trani, finalista a Canoa, mira Boccavuso, invece ha vinto il titolo italiano. Ha vinto il titolo italiano con la Canoa, giusto Mila, parla al microfono però. Campionesta italiana, tu sei classe 2005, quindi parliamo di 14 anni. Stiamo parlando di ragazzi, ma sono tutti bravissimi perché comunque molte volte rinunciano anche a delle proprie esigenze, che sono quelle della gioventù, dell'età, per venire ad allenarsi a mare o in piscina. Questo ce ne rende merito a questi ragazzi che sono stati fantastici. Poi Calise Emanuele, anche lui, mi ricordami il primo o il terzo… Diamo il microfono a Manuel. Allora, il terzo di questa manifestazione è l'aiuto. Che cosa significa? Allora, noi abbiamo un campionato italiano dove ci sono le categorie italiane. Certo. Allora, essendo riconosciuto a livello mondiale, si abbracciano le categorie internazionali. L'aiuto, a differenza della nostra categoria per la quale lui è il primo anno, se non mi sbaglio, no, il secondo anno, non la categoria ragazzi, nell'aiuto è il primo anno, però si confronta con ragazzi che hanno tre anni in più di lui. Sempre vissuti in quella categoria. Sempre nella stessa categoria, lui è arrivato terzo. Primo anno è arrivato terzo con persone che hanno tre anni in più di lui, quindi per noi il successo è stato quello, diciamo. Cioè, essere riusciti a mettere su un atleta che va a competere a livello nazionale con i tempi degli internazionali. Penso che più di questo non potevamo chiedere. Quindi Calise Emanuele e Miraboccafuso, l'abbiamo detto prima, campionessi italiani. Che però a Barcellona ha portato… Esatto. Noi valutiamo l'accesso in finale. Perché l'accesso in finale? L'accesso in finale di un atleta significa che ha già superato l'eliminatore e le semifinali. Cioè, significa che sta nei primi 16 di quella competizione. E' chiaro che poi la gara secca te la puoi giocare e poi succede tutto. Come è successo a Miraboccafuso che in un'altra gara che doveva arrivare terza canoa, giusto? Si è capovolta la canoa tre volte. A lui addirittura, agli italiani, era primo. A Vincenzo? A Vincenzo. Essendo la prima volta, la prima competizione che faceva di un certo livello, leggermente, proprio per raccontare a lui meglio, ha leggermente perso le staffe, ha buttato tutto all'aria, che aveva dato settimo, ottimo, decimo, era primo. Però là paghi lo scotto dell'esperienza. Perciò è importante che per un'associazione ti metti in condizione di avere più esperienze possibili. Vincenzo, ma lo racconti questo episodio? Noi ci conosciamo, non è uno scherzo, abbiamo fatto vela insieme, Vincenzo è stato in uscita anche un supervisore. Però raccontamela questa cosa, dove vi trovavate? Ci troviamo a Riccione, era il primo anno ragazzi. Era la finale diretta, ci trovavamo io e Manuel. Tu e Manuel o il tuo compagno in una finale insieme? Sì, sì. Io mi riesco subito a liberare dalla partenza, io mi riesco a posizionare primo. Al giro della terza boa prendo male un'onda e cado. Dopodiché arriva un'altra onda che, non avendo afferrato subito la canoa, l'onda si è portata via la canoa. E quindi io ero rimasto un attimo in acqua disperato e la canoa intanto stava lontano da me. E poi piano piano la sono andata a riprendere. In tutto questo tempo, gli avversari ovviamente mi hanno sorpassato e sono arrivato decimo. Però dovessi tu trovarti oggi in una situazione del genere? No, immagina che te la ricordi benissimo quella situazione. Soprattutto per le gride che hai avuto. Ti trovassi di nuovo in quella circostanza. Dove sarebbe la differenza nel tuo comportamento? Come affronteresti quello che alla fine resta un imprevisto? L'imprevisto è stato che non ha afferrato subito la canoa perché mi sono girato e ho visto l'onda che arrivava e non aveva avuto il tempo di afferrare la canoa. Su quello che potrei migliorare se ora lo stessi vivendo affererei subito la canoa e la pagaia così da non perdere. Una volta passata all'onda salirei sopra e cercherai almeno di arrivare tra i primi tre dato che ero uno tra i primi e su quell'onda sono caduti abbastanza avversari. Sì, anche perché poi vedo, Filippo, che cadere con una canoa durante una gara non è una cosa così, diciamo, strana. Forse anche per le condizioni nelle quali poi si svolgono queste gare accade piuttosto spesso. A Barcellona, come vediamo nei video, le condizioni erano abbastanza semplici, c'era giusto un pochino d'onda. A Riccione, dove abbiamo careggiato, invece l'onda era veramente grande ed erano molto difficili. da prendere. Quindi la situazione è veramente abbastanza imprevedibile, tutta la gara è imprevedibile e quindi capita spesso che anche tra le prime posizioni si può cadere abbastanza facilmente, soprattutto se non si ha esperienza. Non è che però una volta che si è ribaltata la canoa la gara è finita. No, certo, uno risale velocemente e riparte. Per quanto può essere difficile immaginarlo? Però spesso va a finire che le canoe stanno tutte in pochissimi metri e quindi cadere ti influenza. Ah, diventa poi complicato. Le gare sono molto brevi, le gare di canoa sono sui 6-700 metri, durano massimo 4 minuti e quindi cadere comunque... Anche perché le canoe, mi sembra di capire che siano le canoe oceaniche. Sì, sono canoe oceaniche, sono lunghe 5,80 metri, per regolamento devono pesare almeno 18 kg e sono canoe molto stritte, dove il sedere entra giusto giusto. Può sembrare semplice utilizzarle, però in realtà per chi parte da zero è veramente molto molto difficile. Guarda, io ai Maronti, se ti ricordi molti anni fa, non ho fatto un metro, mi sono solo seduto e mi sono ribaltato due o tre volte, ci ho provato, confesso, i miei peccati non mi sono applicato molto però, sono stato un po' debole da quel punto di vista. Ti faccio una domanda, lo possono fare tutti? Certo che lo possono fare tutti. All'inizio bisogna prendere... Cioè, applicandoci, possono riuscirci tutti? Sì, sì, questo assolutamente. Cioè, veramente non ci stanno... Chiunque può portare... Dai bambini più piccoli, alcune canoe sono... Cioè, hanno i pedali che stanno in una posizione, altre canoe, i pedali sono regolabili. Quindi anche una persona più bassa, come può essere un bambino, una persona più alta, la può utilizzare tranquillamente. Tutto sta che ci si mette, prova, cade mille volte, però piano piano si impara. Piano piano si impara. Manuel, tu, questa tua gara di Barcellona, se ti dovessi chiedere di raccontarmela, la tua esperienza personale, com'è andata? Per me è andata abbastanza bene. Un'esperienza che rifarei molto volentieri. A livello di gare, mi sono qualificato in finale canoa. Nell'altra gara, invece, ad esempio a sprint, sono state eliminate la semifinale. Ma perché voi avete partecipato a tutti, a tutte le specialità? Non proprio tutte, però quasi. Tu hai partecipato a? Io ho partecipato a canoa, bandierine, sprint e tavola. Canoa, bandierine, sprint e tavola. Sprint, che poi come è questo sprint? Anche se forse lo dovrei chiedere a Mira, come è lo sprint. Passa un attimo il microfono a Mira. Perché tu sei arrivata terza nello sprint, ma come si svolge una gara di sprint? Perché io non lo immagino. Vabbè, praticamente parti da un inizio, che sono 90 metri di corsa, se non sbaglio, cioè 90 metri. Praticamente si fanno le semifinali e le finali. Le finali si dividono in finale A e finale B. Se fai la finale B e fai prima, guadagni solo punteggi. Invece la finale A, se fai prima, seconda e terza, fai guadagni punti. E prendi la medaglia. E prendi la medaglia. Però è tipo i 100 metri piani, Carlo? Un scatto sulla sabbia? Un scatto sulla sabbia. La partenza è lì in piedi, non è con i blocchi. Ah, si parte in piedi? Tutti in linea, ovviamente. Puoi anche partire da giù, però essendo sulla sabbia, non ha un grosso vantaggio. Non c'è un grosso vantaggio. Da segnalare una cosa, Mira è nata nel 2005, e Barcellona era la categoria più piccola che poteva essere ammessa alla manifestazione. E lei è arrivata con la sua età terza assoluta. Ah, lei è arrivata terza assoluta. Forse non l'abbiamo sottolineato abbastanza. Ha gareggiato, in realtà tutte le gare erano tutte assoluti, quindi senza differenza di età. E Mira in questo è riuscito ad arrivare terza, contro avversari che comunque erano di altissimo livello. Ed erano molto più grandi di lei. Assolutamente. Come nazioni, di quante nazioni parliamo coinvolte in questa gara di Barcellona? Sette nazioni. Sette nazioni. Sette nazioni. Per circa 150 atleti, mi sembra di ricordare, una cosa del genere. Quindi in questo contesto, diciamo che Mira è arrivata terza. Il nuoto, diciamo, questo tipo di attività, sono quelle che preferisce, perché diciamo, chi segue un po' il mondo dello sport, anche che riguarda la corsa, il triathlon, un po' ti conosce, nelle gare, sull'isola, comunque ci sei, quando non vinci comunque ci sei, ti piazzi bene. Hai un rapporto speciale con l'acqua, o è semplicemente un'altra cosa che fai? Ma per, cioè, no, cioè, ti metti, impari la disciplina. A me piace soprattutto la canoa. La canoa. E sprint. E, cioè, è uguale. La canoa nella quale lei ha vinto il titolo italiano, ma il titolo italiano della sua categoria. Sì. Della sua categoria. Quando è successo tutto questo? A Riccione. A Riccione, quindi in estate? Il 30 maggio. Sì, fine maggio. Fine maggio. 30 maggio, 2 giugno, era una serie di eventi, cioè, tutte le gare, messi in questo range di data. Ma senti, ma tu poi, quando un tuo atleta, Carlo, prende un risultato del genere, non cambia nulla. Non cambia nulla. Non ti senti una persona importante? Assolutamente. Perché, semplicemente, allora, una persona si deve sedere importante quando gli viene fatto un regalo. quando è costruito, nei minimi dettagli, con un lavoro dietro, è semplicemente la fine di un lavoro. Punto. E l'inizio di un'altra preparazione. Infatti, tra un po' inizieremo a preparare. già, perché quali sono i prossimi appuntamenti? Che immagino che l'inverno non vi fermi, Filippo. Assolutamente. No, abbiamo le piscine, adesso la piscina inizia a novembre. i campionati regionali. Già stiamo preparando, spero che dopo Filippo mi dà una mano, perché abbiamo già dei collegiali programmati dal primo al 15 maggio, a Ischia. Ciò significa che verranno i migliori 16 atleti di ogni categoria della campagna ad allenarsi a Ischia. dove avremo un tecnico della Nazionale, Giambalo Longubarda, che è anche tecnico del Posillipo, ci sarò io e ci saranno altri due tecnici che ci aiutano, Alfonso Abate e penso Filippo che ci aiuta sulla spiaggia. Questo perché? Proprio rialacciandomi a quello che dicevo prima, i ragazzi non possono arrivare impreparati ad impegni così grossi, quindi la preparazione è tutto l'anno, non è che la stoppino, è impossibile stopparla, pure perché le gare sono tante, e a quest'anno abbiamo saltato l'ocean. L'ocean che sai, chi la spiega l'ocean? Vincenzo, spiegami quest'ocean, diciamo, cos'è l'ocean? L'ocean, vabbè per i maschi si chiama Ocean Man, l'ocean è un misto, è una gara che è un misto tra canoa, nuoto, tavola e corsa. La combinazione si decide a un momento, si fa il sorteggio, però... Ah, l'ordine nel corso. L'ordine nel quale, si può partire con la canoa, fai il percorso canoa, una volta arrivato alla fine del percorso canoa, corri fino a prendere la tavola, fai il percorso tavola, all'arrivo corri e riparti a nuoto, una volta ripartito a nuoto, fai un cento metri di corsa, e arrivi all'arrivo sfinito, è la gara quasi più completa, la più completa di tutto. La più completa del salvamento. Esatto. A mare. A mare. Perché poi è vicino di tutta una serie di altre... il nuoto con il manichino, il manichino, con le pinne, il misto, il sottopassaggio. Quest'anno in via sperimentale, l'ho proposto a livello regionale, penso che sia passato, c'è una SERC. La SERC che cos'è? Una manifestazione, una gara, che si svolge in una piscina, senza corsia. Cioè, ci sono... il giudice decide di fare degli eventi all'interno, poi non si chiamano eventi, sono... delle situazioni di salvaggia. Certo. Allora, quattro squadre non vedono questa organizzazione che ha preparato il giudice, hanno due minuti di tempo, nel momento in cui entrano sul Bordo Vasca, di risolvere questi problemi, in una sequenza logica, chiaramente, nel modo migliore. Le giudice... Lo vedono un attimo prima di entrare in acqua. E questa sarebbe quella là che vorrebbero portare come prova olimpica. Perché? Perché è quella che dimostra se tu sai fare o no il tuo mestiere. Ah, beh. E poi sarebbe quella dell'assistente a bagnanza, diciamo questo. Però là c'è un problema di punteggio perché è molto arbitrario, è poco oggettivo. C'è poco oggettività. Esatto. Bisogna lavorare su questo. Un po' di fantasia o di un'attesa. Vabbè, allora in attesa di ricevere nuove notizie dal mondo del salvamento e del nuoto. Io ringrazio questa magnifica spedizione che è stata nei nostri studi qui a Tereischia. Vi ringrazio per essere venuti a raccontarci la vostra disciplina e quello che è stato l'ultimo evento, quello di Barcellona. Noi ci vediamo presto per altre iniziative che vi riguardano. Intanto per quello che riguarda gli amici da casa le ringraziamo per essere stati ancora una volta a contatto con noi. L'appuntamento è per i prossimi eventi sportivi di Tereischia. di Tereischia. di Tereischia. Grazie.